Ivana Fogo, SPCGL Padova. Alvia oggi il rimborso per 4 milioni e mezzo di pensionati, si parla quindi del famoso blocco del congelamento del governo Monti, dobbiamo gioire o qualcosa ancora lascia il dubbio? Beh, insomma, noi dobbiamo dire le cose come stanno. Viene restituita una parte di quel reddito delle pensioni che sono state congelate. In effetti, diciamo chiaramente i cittadini, chi percepiva una pensione fino a 1.500 euro, non lordi, parliamo sempre di reddito lordo, non ha visto ridotto nulla e quindi non riceverà nulla. Riceveranno quei pensionati che hanno le pensioni da 1.500 a 3.000 euro, in modo scalare e inversamente proporzionale rispetto alla loro pensione. Certo, viene restituita una parte e non naturalmente tutto quello che è stato congelato. Ora, noi siamo soddisfatti perché viene naturalmente una parte del reddito che è stato sottratto. Dall'altro lato, dobbiamo dire però che questo non è sufficiente perché noi non sappiamo se poi verrà restituita la parte mancante. Diciamo comunque che abbiamo chiesto al governo di avere dei tavoli di confronto e in effetti i tavoli, dobbiamo dire, sono partiti. Noi non c'è sufficiente parlare di ciò che è stato congelato, ma vogliamo intervenire su tutta la rivalutazione delle pensioni e naturalmente su un modo diverso di rivalutarle. Fogo, comunque almeno una positività c'è il fatto che il restituito diverrà comunque in montante, si dice tecnicamente giusto, verrà calcolato quindi come in montante da questo momento. Certo, le quote che saranno date a tutti, insomma a tutti quelli che rientrano in quella fascia nella pensione qua di agosto, entreranno a far parte del montante appunto del reddito sul quale poi verrà fatta la rivalutazione a partire dal 1 gennaio 2016. Quindi, insomma, è positiva questa scelta perché non è una tantum così, ma entra a far parte nelle quote che vengono rivalutate. E questo, insomma, ci auguriamo che vada bene anche per il futuro.